Marco arriva da me in un giorno di febbraio. È un uomo che ha fatto di tutto nella vita, ha girato il mondo, ha lavorato con passione, ha messo su una famiglia con due figli oggi autonomi e sereni. Marco è in pensione e se la sta godendo. Un unico tarlo, una maculopatia grave e fastidiosa che gli sta portando via la vista. Marco ha paura. Prima di tutto di non riuscire più a fare tutte quelle cose semplici della vita, come da mettere una presa in cucina. Cucinare, guidare, a muoversi con agevolezza e tanto altro che ben potete immaginare. Marco ha paura di risultare inopportuno in questa condizione, dando preoccupazioni alla famiglia, ai propri figli, agli amici, teme di disturbare troppo gli altri. Marco non viaggia in luoghi che non conosce perché non li può vedere con i suoi occhi. Marco preferisce viaggiare in luoghi conosciuti perché li vede con la sua memoria visiva. Marco arriva da me e dopo avermi raccontato la sua storia mi dice Aiutami a non avere paura. E io ho un click. Dovete sapere che per dieci anni, prima di iniziare il mio percorso di life coach, ho collaborato per diverse onlus nei reparti di oncologia pediatrica di Torino e la persona che mi aveva fatto entrare come mago in corsia è Cristiana Voglino, autrice e scrittice di questo bellissimo libro dal titolo Aiutami a non avere paura. Non posso guardarlo dritto negli occhi Marco, non potrebbe vedere la mia sincerità e allora gli prendo le mani e dico a lui Non finisce nulla, cambia solo il modo di pensare come vivere la quotidianità in maniera equilibrata. Io ci metto tutto il mio impegno e sarò responsabile del processo. Tu sei seriamente pronto ad agire con fermezza per il tuo obiettivo? Marco ha due mani grosse, grosse e pesanti, mi stritola le mani. Quindi iniziamo questo viaggio con il programma protagonista della tua vita. Primo obiettivo, riprendere la fiducia in se stessi e trasformare questo nuovo stile di vita in un viaggio alla scoperta di un nuovo modo di approcciare alla vita quotidiana. Secondo obiettivo, la consapevolezza. Chiedere aiuto è un atto di amore. I luoghi ce li possiamo far descrivere dalla persona che vive al nostro fianco. Marco ha una donna che lo ama. Terzo obiettivo, lavorare su nuove strategie per muoverci agevolmente prima per casa e poi all'esterno. Quindi faremo esercizi di memoria visiva che ci permetteranno di avere, di costruire una mappa mentale dei luoghi che visitiamo e che possiamo riscoprire con gli occhi di chi ci vuole bene al nostro fianco. Quindi iniziamo a riconoscere la paura come strumento di consapevolezza sana per fermarci, pensare e agire. Con Marco il viaggio è appena iniziato ed io sono felice perché faccio il lavoro più bello del mondo. E ve lo volevo dire, volevo testimoniarvelo. Quindi da Gianvito il vostro artigiano di emozioni è tutto. Se avete bisogno, un saluto e un buon weekend rigenerante a tutti voi. Ciao.